Musica Proseguono le operazioni di abbattimento delle abitazioni abusive sul territorio cittadino. Le ruspe sono entrate in azione la scorsa notte a pianura in via Torciolano per abbattere due villette di circa 240 metri quadri edificate su suolo agricolo senza autorizzazioni. Un'operazione complessa che arriva dopo lo stop in Senato al condono edilizio in Campania e realizzata grazie all'impegno degli agenti di polizia locale e della polizia di Stato assieme al servizio anti-abusivismo del Comune. Non possiamo dimenticarci quel dovere che abbiamo anche di ripristinare la legalità sul territorio che passa anche attraverso queste operazioni e che sono in ogni caso atti dovuti ai quali l'amministrazione non può sottrarsi. Credo che sia stato chiaro anche il segnale che è venuto innanzitutto dal Senato dove si è deciso che nuovi condoni non è pensabile. Altre iniziative a me sembrano più utilitaristiche a fini elettorali e politici che poco hanno a che fare con il diritto della collettività. Le due ville, probabilmente appartenenti ad un unico proprietario, erano già sottoposte a sequestro e presidiate 24 ore su 24 su disposizione della Procura. L'amministrazione comunale è impegnata in prima linea per il ripristino della legalità sul territorio e proseguiranno nei prossimi mesi gli interventi di demolizione delle case abusive. C'è un programma che riguarda l'intero territorio della città che è stato concordato con la Procura quindi c'è una lista lunga e ai noi perché il problema dell'abusismo inizia a Napoli è grave e che noi manterremo nel rispetto anche degli accordi presi con la Procura fino a esaurimento anche dei fondi che abbiamo a disposizione per fare queste operazioni.